Questa è la domanda delle domande, Davide. Noi siamo abituati a parlare di mondo arabo, che è una finzione orientalista, cioè una nostra invenzione, non esiste il mondo arabo. L'arabo è una lingua, peraltro con screziatura assai diversa. L'arabo d'Egitto c'è tra quasi niente con quello di Siria, così per dare un'idea diversa delle cose. E gli arabi sono assai divisi fra di loro, perché non sono una nazione. E spesso le divisioni sono, oltre che nazionali o nazionaliste, e fate voi, anche religiose, come ben sappiamo, perché gli arabi sono anzitutto cristiani, proprio in senso cronologico, non è una questione di numeri, insomma, arriva prima al cristianesimo dell'Islam, e sono poi divisi anche all'interno dell'Islam, perché ci sono la maggioranza degli arabi sunniti e poi una minoranza corposa sciita. E gli arabi su queste divisioni hanno anche legami con le potenze esterne. A che cosa mi riferisco? Gli arabi sciiti, che sono minoranza nell'ecumene araba, se la vogliamo chiamare cumene, afferiscono al cosiddetto impero persiano, quello che oggi noi chiamiamo l'Iran. Perché? Perché sono distanti dai loro cugini, con fratelli arabi, non saprei come definirli, e anche dai loro cugini semiti, cioè gli ebrei, sono distanti da questi e guardano all'Iran, perché l'Iran è storicamente il nemico della grande cumene araba, quella sunnita. Peraltro, io crediamo che gli arabi con la spada convertirono i persiani all'islam, nel nostro alto medioevo, ma poi i persiani. Si sono creati un loro islam, anche se gliel'hanno portato i turchi, ma adesso non ci complichiamo la testa, che è quello sciita, proprio per differenziarsi dalla maggioranza degli arabi. Che c'entra tutto questo con Hezbollah? Hezbollah rappresenta una minoranza degli arabi, una minoranza dentro un paese, che non è un paese, che hanno inventato i francesi, nella sua unità, che è il Libano, a cui hanno dato anche la bandiera, il simbolo, eccetera, eccetera. Questa minoranza sciita, il partito di Dio, si è fatta partito a Hezbollah e guarda l'Iran, che la sovvenziona, la copre, la gestisce, la usa contro Israele. Perché invece, chiudo, in questa fase, la maggioranza degli arabi del Golfo e anche della regione, quelli sunniti, stanno con Israele, che può sembrare assurdo per chi ci ascolta. Non era forse mai accaduto nella storia del Medio Oriente. Anzi, senza dubbio non era mai accaduto, perché poi le questioni nel parentato, ripeto, ebrei ed arabi sono semiti, perché non è un'accezione, semplicemente parlano lingue che afferiscono allo stesso ceppo, il ceppo semitico, quindi sono storicamente vicini, si conoscono. Però tu l'hai ricordato poco fa, nella storia del Medio Oriente e delle guerre che venivano chiamate guerre arabo-israeliane, c'era una sostanziale, come dire, mutuo soccorso, chiamiamola impropriamente così. Adesso le cose sono cambiate. Adesso le cose sono tra i paesi arabi. Perché il grande nemico è l'Iran. Per le monarchie del Golfo sunnite e gli altri arabi sunniti principalmente, mettiamoci Giordani anche, che è un'altra monarchia, sebbene non del Golfo, che esiste quasi per capriccio solo israeliano, il regno ascemita di Giordania, ma mettiamoci anche l'Egitto, che non è una monarchia, ma comunque a maggioranza sunnita, del paese arabo più popoloso, oggi hanno come grande nemico l'Iran. E si affidano a Israele. Perché? Perché gli americani li hanno invitati a farlo, traduco, dopo le sconfitte subite nel grande Medio Oriente, Iraq, mettiamoci anche l'Afghanistan, che il Medio Oriente non è, ma fa parte delle sconfitte degli americani. Gli americani dicono, noi che siamo anche autosufficienti, ormai sul piano di nitrocarburi, e qui non c'è nessuna guerra di religione, quindi usciamo subito da queste sciocchezze, che sono le monarchie altrettanto musulmane del Golfo, ma sono nemici degli iraniani, perché sono persiani, sebbene altrettanto musulmani, dicono agli americani, cioè sauditi, bareniti, emiratini, e noi? E gli americani dicono, fatevi proteggere da Israele. Quindi si sta costruendo, ci stai raccontando un nuovo equilibrio. Certo, ma perché proprio da Israele dicono agli americani fatevi proteggere, perché Israele è la superpotenza militare della regione, sebbene un paese piccino, ma iper-evoluto colcinella della regione. Gli accordi di Abramo sono questi, se tu chiedi ad un americano, sono pittori della domenica che si contrano, si guardano gli americani, ma sai che Tel Aviv è veramente un bel posto? Sarebbe il caso di riconoscere Israele. Insomma, e sarebbe bellissimo, Tel Aviv è veramente un bel posto, ma non credo sia questo che li abbia motivati, ma bareniti, emiratini, firmano appena, oltre al Sudan e al Marocco, gli accordi di Abramo, l'Arabia Saudita li firma a matita, tra 2020 e 2022, dicendo che cosa? È il fronte di resistenza contro l'Iran. Hezbollah invece afferisce proprio all'Iran e adesso vuole mettere in difficoltà Israele. Esatto, infatti arriviamo...